tre spettacolari appuntamenti per gli amanti del basket nba la grande sfida ha inizio con la prova dei tiri da tre punti poi le acrobazie della gara di schiacciata e infine all star game l'america del basket elegge i suoi campioni i migliori dell'est contro i migliori dell'ovest una sfida storica giunta la sua trentanovesima edizione all star game domenica alle 22 20 su italia 1 vieni alla standa a cogliere le mie le più belle questa settimana le trovi a 790 lire al chilo sì solo 790 lire corri alla standa avere pochi secondi per esprimere precisione e conquista non dimentichiamo gli incontri le emozioni cronometri psycho l'uomo ha inventato il tempo psycho l'ha perfezionato dichiaro il nome delle leggi sono uniti zia e bambini quando e no per un po' non se ne parla ma sei sicuro sì sicurissima aquel no aquel i preservativi delle donne italiane sogni d'oro io lo so che questa notte sognerò tu lo sai sogni d'oro stanotte farai tranquillità e sogni d'oro a tutta la città sogni d'oro papà camomilla sogni d'oro dalla natura il fiore della serenità grazie